Claudio, cosa siamo venuti a fare oggi qua? Oggi è un incontro molto importante nel quadro di questa sessione di Asita che parla dell'utilizzazione dei dati che provengono dallo spazio e in particolare con G-SIG parliamo dell'utilizzazione dei dati di Copernicus che è un sistema satellitare europeo e ne parliamo in connessione con i processi di innovazione e sostenibilità della Blue Economy questo qui è il contesto invece per quanto ti riguarda il motivo per cui ti abbiamo chiesto di essere qui è parlare di un altro sistema aperto che è quello di FIWARE nel quale la tua società engineering sviluppa, lavora, tiene relazioni anche con gli enti locali e poi te in particolare perché segui lo sviluppo delle città intelligenti, delle smart city Sì, puoi raccontare queste cose a Genova, da un genovese abbiamo fatto pochi anni fa il FIWARE Summit globale in città e quindi questa è una cosa importante hai toccato un punto che è centrale, quello del dato e del valore del dato il dato vale qualcosa se può essere condiviso, se può essere utilizzato da tutti gli operatori e da tutti gli stakeholder di un ecosistema il dato significa avere anche dei modelli di dati che siano aperti significa avere degli standard, significa aprire dei dialoghi dei dialoghi fra tutti gli operatori piccole imprese, start up, grandi imprese, lato scientifico, lato accademico, lato pubblica amministrazione quindi tutti gli operatori se hanno dati possono creare delle ricchezze sul territorio molto grandi e intorno alla Blue Economy c'è davvero moltissima cosa da fare Io questo trovo interessante, esattamente che questo sistema aperto è un sistema dove possono abitare, essere a loro agio, produrre ricchezze, produrre benessere sia imprese grandi e piccole, sia singoli operatori che anche sistemi organizzati come le città che hanno bisogno di operare spesso non ricomprando continuamente i mezzi o i servizi o affidandosi magari a dei monopoli che poi chiudono il sistema delle opportunità e non lo espandono quindi io trovo che veramente possa essere una base questa sulla quale fare innovazione anche su un settore per noi strategico che è la Blue Economy e soprattutto innovazione sostenibile non so tu da questo punto di vista che cosa puoi dirci Il centro di questi sistemi complessi è dato dalla diversità di tutti gli attori come dicevamo prima e questi attori devono essere messi in grado di poter collaborare, interagire di poter lavorare insieme senza che nessuno diventi proprietario di un processo, di una soluzione evitando quelli che i tecnici chiamano lock-in, quindi lock-in, blocchi di tipo tecnologico relativi a un fornitore o relativi a qualche sistema particolare quindi la parola chiave è apertura FIWARE certamente è un'iniziativa oggi globale c'è un catalogo di soluzioni per le città che raccoglie oltre 250 città nel mondo che hanno adottato soluzioni basate su FIWARE fatte da piccolissime micro start-up fino a large corporation dal sud-est asiatico piuttosto che dagli Stati Uniti e questo è un valore molto grande insieme ad altre iniziative europee perché la parte open, così come citavi Copernicus, è importante perché ci sono delle iniziative rilevanti europee sulla tecnologia che dobbiamo valorizzare come europei dove l'Italia dà un grosso contributo e possiamo mettere davvero a fattore comune le citerò più tardi ma parliamo di iniziative sui dati Big Data e c'è un'iniziativa che si chiama Big Data Value Association FIWARE sull'open source e sugli open standard Gaia X sulla federazione di cloud per evitare anche qua dei blocchi di venditori che possono chiudere e definire degli standard quindi standard aperti per arrivare a International Data Spaces che crea degli spazi di dati spazi basati su standard ecco questo è un patrimonio europeo è un patrimonio che abbiamo che raccoglie centinaia di soggetti pubblici e privati in tutti i paesi dell'Europa e che può e deve essere valorizzato per portare al centro di questi processi che state portando avanti la tecnologia europea aperta per tutti Grazie, Lanfranco con uno slogan inverso si dice oggi si combatte soprattutto nel campo tecnologico non nel mercato ma per il mercato queste risorse anche di matrice europea e anche queste imprese come la tua ci aiutano a tenere il mercato aperto e quindi anche aperto all'innovazione aperto alla generatività e credo che sia una buona notizia bene Grazie